...della scuola di ballo mondo latino, quindi aprono loro le danze con un balletto che si chiama Caliente, il brano è intitolato. Allora loro entrano e poi le presentiamo dopo le ragazze, facciamo un grandissimo applauso ...della scuola di ballo mondo latino, quindi la scuola di ballo mondo latino, quindi ...della scuola di ballo mondo latino, quindi la scuola di ballo mondo latino, quindi ...della scuola, l'hoota di ballodi non parlare le classole bambi? ...della scuola, l'hoota vellini naybiamo subiğ booth. ...della scuola di balloel piano, quindi la scuola non ha spettato entro ...della florella Syria è col Savage garantito chiama ...della scuola di balli di balloervice, che ballovo dunci Non so le stesse però No aspettate le bambine sono le stesse perché mi ricordo di lei Ma a te no Tu prima non c'eri Ma al primo 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 no Ehi non vi abbiamo presentato Tu c'eri? Vai Noemilo Musso Noemilo Musso Nicoletta Occello Chi non c'era prima? Vai Aurora Gostardi Elena Piesorrenti Elena Melchino Benissimo facciamo un applauso per tutte perché va benissimo Noi ce ne andiamo perché stiamo stretti vi togliamo spazio ve lo diamo Ballano sulla base di un mix latino Mix latino, ciao Ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Buon...